E tu pensa a quello che ho detto, Chitarrina. Guarda che è la pura verità. Questa è l'ultima cosa che mi aspettavo. Tu non pensi a parlare con me? Ti sto aspettando, Victor. Quando tu hai rotto con me, eri stata molto chiara. È che da quando tu sei partito da Valencia, mi sono accorta che mi mancavi. Non posso stare senza te. Ricordi quella password che mi avevi dato? Penso che non sia corretta, non funziona. Zitto. Guarda Alfredo che rimbambito. Ma chi è che lascia i propri amici per una ragazza? Beh, vuoi tutta la lista o ti basta qualche nome? E poi guarda! Guarda come se la ride con quei dentoni da cavallo. Di sicuro Alfredo le avrà raccontato una delle sue cavolate. Bene, finito. Sei fastidioso. Non sarà mica che piace a te. Chi? La piccoletta. Ma dai, sei matto.